Sono Enzo Di Serafino, amministratore delegato di Frigo Meccanica, azienda leader del proprio settore da oltre 50 anni. Frigo Meccanica, dove l'innovazione incontra la tradizione. Frigo Meccanica è molto più di un nome, è un simbolo di maestria artigianale e tecnologia avanzata. La nostra è una storia di competenza e innovazione che unisce il meglio del passato con le sfide del futuro. Progettiamo e realizziamo tecnologia d'arredo per pasticcerie, celaterie, bar, ristoranti e negozi alimentari. Con sedi in posizioni strategiche, siamo in grado di offrirti supporto personalizzato ovunque tu sia, per facilitare il raggiungimento dei tuoi obiettivi aziendali, indipendentemente dalla tua collocazione geografica. L'impegno alla qualità è il nostro marchio distintivo. Ogni prodotto è concepito seguendo gli standard più elevati, garantendoti un design all'avanguardia e prestazioni affidabili. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la nostra posizione, espandendoci ed affermandoci sul mercato come leader del Made in Italy. Arredamenti bar, vetrine gelato, banchi alimentari, tutti i nostri prodotti sono progettati per innalzare il tuo business a nuovi livelli. Trasparenza, solidità e design guidano ogni aspetto delle nostre operazioni, garantendoti una partnership costruita su basi solide. Inoltre, con Frigo Connect il futuro è adesso. Unisciti a noi nel plasmare un domani più efficiente e totalmente connesso per il tuo business. Frigo Meccanica, dove l'innovazione incontra il tuo stile. Grazie a tutti.